Ben trovati, molti di noi avrebbero voluto svegliarsi questa mattina da campioni europee, invece non è andata così. Prandelli come Mario Monti? Bah, chi lo può dire, nel senso che Prandelli ha ottenuto la grande vittoria con la Germania, nello stesso giorno in cui alla Germania proprio Mario Monti è riuscito a strappare qualcosa per l'economia europea e nazionale principalmente. Poi ieri si è bloccato il flusso positivo per i nostri calciatori, speriamo nelle prossime settimane non si blocchi o non sia un blef quanto ottenuto dal Premier italiano la scorsa settimana. Il nostro è un paese strano, Mario Monti dice fermiamo il calcio per due e tre anni a margine delle scommesse scoperte ma che da decenni esistono nel calcio nostrano e poi ieri va allo stadio e non porta per nulla bene, anzi porta sfortuna ad una nazionale incapace. Ma se noi facciamo un'analisi però, poi possiamo dire è stata meravigliosa la partita con la Germania, hanno giocato molto bene, abbiamo dato un calcione nel culone della Merkel, sì è vero tutto questo è sacrosanto, ma su sei partite in quante hanno ben figurato i nostri calciatori? In due la Germania e iniziava anche con l'Inghilterra, ma nel resto insomma abbiamo a malapena vinto con l'Irlanda, abbiamo pareggiato con la Spagna che non era in forma come ieri a sera e con la Croazia ci è andata anche abbastanza bene, per cui non un grande campionato europeo, ma il calcio proprio rispecchia la società italiana e quella politica in primis, perché? Perché l'ipocrisia, secondo me e non me ne voglia il Cd, il Ct Prandelli, sta proprio in molte sue affermazioni. Prima di perdere con la Spagna disse ho trascorso due mesi intensissimi che hanno sacrificato molto alla mia vita, quasi a voler prefigurare che da campione d'Europa avrebbe potuto lasciare la poltrona, perché di tal cosa si tratta, perché è ben remunerata, la poltrona di allenatore della Nazionale Italiana di Calcio. Sì, questo ci ha fatto intravedere, ma poi ha detto vedremo cosa succederà il giorno dopo la finale. Cosa è successo il giorno della finale? Che ho avuto due momenti, il primo vuol fare l'eroe nazionale, in questo paese nessuno si dimette, dopo la figuraccia fatta, dopo gli errori anche nei cambi durante la finale di ieri a sera, ora si dimetterà, ecco la vera novità, c'è un'Italia che si dimette. Poi appena ho ascoltato le prime battute, con le tante giustificazioni della pessima prova di ieri a sera, ho detto no, il calcio è proprio come la società italiana e la politica, nessuno lascia un incarico che comunque è presigioso, infatti Prandelli probabilmente, anzi secondo me sicuramente, non si dimetterà da CT della Nazionale e sarà o potrebbe essere l'allenatore anche per i prossimi mondiali, ma se facciamo un'altra valutazione sulla nazionale per poi chiudere l'argomento, ma oggi non si può che parlare di questo, tutti ne stiamo parlando nei bar e in ogni luogo, se dovessimo fare questa valutazione la nazionale ha retto, ha retto diciamo bene per non perdere tutte le partite grazie alla vecchia squadra e non ai nuovi innesti, anche se due o tre soggetti interessanti quindi realmente Prandelli è riuscito a trovarli, chissà cosa succederà per il calcio italiano, per le scommesse che vedono protagoniste anche figure di primissimo piano come il portiere Buffon e cosa succederà per la nostra economia, speriamo, ripeto, che Monti non faccia come Prandelli, vinca giovedì contro la Germania e poi rischi di perdere come invece è successo ieri a sera nelle prossime settimane a discapito della nostra economia e sempre dei nostri soldi. A domani.